a giovani a giovani dal ramanaro vi sono portato con l'acqua gratissima che siamo nel fast food giapponese quindi l'acqua è del sindaco ma arriva il ramen con tutto il set questo è il ramen diverso, il nuovo ramen è aperto alla stazione di Sendai, una bomba siamo sui 1260 yen con tutto il set che arriverà cioè sui 10 euro, faccio vedere quanta roba arriva con 10 euro nel frattempo c'è lui che sta un sci pazzo perché è essendo una stazione, il ramanaro Mena la mia moglie ha scelto le due miso ramen, un spettacolo delle roba ma arriva il set mi questo perché dici che cosa vuoi fare nella vita vuoi rimanere leggero a cena, il riso pure mancano solo chiosa adesso arrivano, tac, ci abbiamo pure di giovane prima cosa la mia moglie ha scelto ok 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 adesso io mi sento che buona un appetito un appetito un appetito dedicato a tutti e anche io perché il calabrese della provincia di Cosenza come a me però lo dedico a te questo ramen perché direbbe una persona intelligente e mi sa che tu sai quello che stai facendo molti pensano di no, ma tu lo sai ma morsica ma morsica ma morsica sanki wow ma morsica ma morsica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo la porcata, va? Facciamo la porcata. Ah, il colesterolo che sale. Il maiano è davvero buono. Grazie a tutti. 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 Mi sto faccio. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. forse a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.